Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Annettate che siamo arrivati a 30 iscritti E sono molto contenta Perché in questo mese e mezzo Da che mi ero bloccata a 23 Siamo arrivati velocemente a 30 E io vi ringrazio Perché quando andiamo avanti è una specie di traguardo sia me che vostro Perché voi siete riusciti ad arrivare a questo Perfetto adesso Facciamo sempre la stessa cosa di Pernodelli per la camera dei bambini Perché guardate che meraviglia di cucina soggiorno Mancherebbe un toppeto ma poi lo andremo a prendere Che se ti metti sopra dormi e svieni Ok adesso chiudo gli occhi Mescolo Aspetta c'è un po' Posso installare Ok Mescolo perché se vedo me lo scelgo Azzurro Ma l'azzurro già c'è stato No mannata Io cercavo il rosa Cioè il mio colore preferito è l'azzurro Rosa Vediamo un altro Magari mi trovo il viola Un'altra cosa Ok questo è il mio Giallo anche E adesso però che scelgo Giallo o rosa Rosa Sapete perché cercavo tanto il rosa Non perché il mio colore preferito Non mi fa impazzire rosa Perché per ragazzini ci sono un sacco di cose rosa Travestiti Il pavimento Tantissime cose Il lettone Gli facciamo il letto a castello Cioè guardate già Trovata Trovate una cosa già molto bella Quindi io dobbiamo mettere un tappetino È obbligo Il tappetino Guardate Che meraviglia Quel quadro Che dà un tocco stupendo A questa cameretta Per bambini Bambini Che c'ho la ragazzina Bambini Cioè bambini Ragazzini Cioè bambini Libro È una specie di rosa È una specie di rosa Il gioco Qua poi negli altri ci vanno i vestiti E ci sta pure Ci sta pure Perché poi ci vanno i vestiti Si mette il ferellino Che è rosa Si mette anche la piantina a terra Che è rosa Ciao Ciao Stai registrando? Si Ah Bene Mi sono accorta che sono senza video Ok Mettiamo questo coso rosa Quanto sono brava a specificare cosa mette in casa Questo coso rosa Il colore almeno l'ho specificato Il colore almeno l'ho specificato Ed è un passo Molto importante Importantissimo Il colore l'ho detto Così che tra cose Cosi coso Si capisce che cosa sta mettendo Che coso Stai mettendo Dentro il coso Che sta dentro la cosa Che sta dentro il coso Che sta dentro la cosona Per cosare Non avete capito niente È sicuro Ma quello Che serve per cosare? Eh Allora era il coso Come si dice Questo Il Non lo so L'appendi abiti Cos'è? No questo Quello che sto muovendo Che è dentro il coso Che è la casa Che sta dentro la città Che sta dentro il mondo Si accettano suggerimenti Se qualcuno volesse Nei commenti Così capiamo Di che cosa sta parlando No Che cos'è? Non l'ho capito Che cos'è Quel coso Che abbiamo messo Nel muro E infatti Rigo Si accettano suggerimenti Diteci voi Perché qua Non si è capito niente Il festa Il festa? No Ma chi è il festa? Non ho capito Quello che ho detto E qui c'è le batterie? No In cucina Mettiamo anche Il puzzaiolo Di quando Quando ha fatto la festa Cosa? Il puzzo Il puzzo Vabbè dai Ragazzi È finita Vi so perché volevo il rosa Guardate che bellezza Di cameretta Che è venuta Ma cose Cose Spettacolari Vabbè Poi ci vediamo Per le altre Miliard Di parti Che ci saranno Nei prossimi video In cui Prendo Allora Poi c'è personaggi Poi prendo Ovunque le cose Cento negozi Vediamo Si va a finire Che creare una casetta E una famiglia E per una storia 15 video Ma è una casetta Piccolina in canada Con vasca e pesciolini E tanti fiori di lilla No Vabbè ragazzi Il video Aspetta C'era il lavandino Storto Allora Praticamente c'era La pazza Dove ci va l'acqua Qui E il lavandino Era qui Ah ecco Quindi Si sarebbe potuto Allagare Si sarebbe potuto Allagare Tutta la casa No Perché guarda Ah Ok Il mobile Così è per Coprire Vabbè ragazzi Il video finisce qui Ci vediamo Per altre Miliardesime Parti Siete troppo felici Verò Per finire Una casetta Quindi ci metteremo Tipo Tre giorni Ci metteremo Tre giorni Per fare Una famiglia Cambiando Questi personaggi Buon divertimento E arredando Perché dobbiamo Passare in 50 negozi Anche se ce ne sono 10 Sono 50 E ce ne sono 10 Vabbè Ce la possiamo fare Ciao Iscrivetevi al canale E lasciate like Si E attivate la campanella Per non perdere I miei suoi video Ciao